Rissa sul sagrato della chiesa d'aspo urbano per tre giovani, l'aggressione di sera in piazza San Michele affollata di turisti, due giovani marocchini prendono a calce e pugni un connazionale che a sua volta sferra un pugno contro l'auto della polizia e minaccia un agente. La palestra Bacchettoni pronta per l'autunno 2025, il sopralluogo dell'amministrazione dei tecnici comunali per fare il punto sui lavori di riqualificazione che secondo le previsioni termineranno nei tempi previsti. Elicottero parcheggiato di fianco alla chiesa nuova di San Vito è quanto hanno potuto vedere gli abitanti del popoloso quartiere alla periferia nord-est della città che sono rimasti di sasso di fronte a questo strano e insolita presenza. Il calcio, Igor Protti, a chi ha fatto palo il nostro calcio senza fantasia, il bomber romagnolo ospite della prima puntata della nuova trasmissione di Noi TV dedicata al calciomercato ha commentato anche la debacle della nazionale agli europei. Ben trovati con l'informazione del nostro telegiornale, dunque in primo piano l'avete sentito partiamo subito dalla cronache con l'ennesimo provvedimento di daspo urbano emesso dal questore di Lucca nei confronti di tre giovani a seguito di una violenta aggressione scoppiata in piazza San Michele. Partiamo da qui. Una violenta aggressione a suon di calci e pugni è scoppiata sul sagrato della chiesa in piazza San Michele a Lucca ed è dovuta intervenire la polizia perché l'aggressione non degenerasse in modo grave. A lanciare l'allarme intorno alle 23 quando poco distante in piazza grande era in corso il concerto dei Duran Duran sono stati alcuni cittadini tra i tanti che oltre ai turisti hanno assistito alla scena che ha visto protagonisti tre marocchini di 17, 22 e 32 anni. Per motivi tuttora sconosciuti i due più giovani hanno picchiato il connazionale 32enne. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, gli agenti hanno sedato la rissa per poi accompagnare i tre in questura. I due più giovani sono stati denunciati a piede libero per lesioni e il minorenne è stato riaffidato alla struttura di accoglienza nella quale era già residente. Al momento di salire in auto il 32enne che ha poi riportato 15 giorni di prognosi per le lesioni subite avrebbe sferrato un pugno contro la macchina della polizia e minacciato un agente. Per il giovane è scattato l'arresto ma successivamente è stato rimesso in libertà su decisione del giudice del Tribunale di Lucca che nei suoi confronti ha applicato la misura del divieto di avvicinamento al Comune di Lucca. Anche lui è stato denunciato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Per tutti e tre il questore di Lucca Edgardo Giobbi ha disposto il daspo urbano che impone loro il divieto di accesso a piazza San Michele alle vie limitrofe. Quello di martedì sera è solo l'ultimo dei diversi episodi di violenza che si sono verificati nelle ultime settimane in una delle piazze più rappresentative del centro storico di Lucca e frequentatissima anche di sera da turisti e lucchesi. Lo ricorderete a seguito dell'incidente dell'autobus contro un kebab a Sant'Anna dieci famiglie sono rimaste isolate ebbene dopo un servizio su Noi TV è stata subito incaricata una ditta per mettere in sicurezza l'edificio e presto le famiglie potranno rientrare nei loro appartamenti. Si avvia verso una soluzione definitiva il problema delle dieci famiglie bloccate in casa a Sant'Anna per il pericolo di crollo della palazzina sulla Sarzanese che fu sventrata da una navetta della LAM nel giugno scorso. Un problema che era stato evidenziato dalla nostra emittente dopo l'appello di un ultraottantenne cardiopatico di fatto bloccato nel suo appartamento dove se avesse avuto bisogno non sarebbero arrivati nemmeno i soccorsi. Dopo il nostro appello infatti una ditta è stata incaricata di mettere in sicurezza l'edificio che fino ad alcune settimane fa ospitava un kebab e un'abitazione al primo piano. Lavori che a breve dovrebbero consentire di riaprire la strada senza uscita che si trova a fianco del caseggiato e in fondo alla quale c'è un condominio dove abitano otto famiglie. In questo periodo, almeno a piedi, queste persone hanno potuto uscire dalle proprie abitazioni soltanto grazie a un vicino che ha messo a disposizione il proprio giardino per il transito pedonale. Una situazione che aveva però bisogno di una soluzione definitiva che a questo punto con la soddisfazione degli occupanti del condominio dovrebbe arrivare con esito positivo. Voltiamo decisamente pagina. Qual è il futuro della ristorazione lucchese alla luce dei grandi flussi turistici in città? Lo abbiamo chiesto a un ristoratore storico del centro storico di Lucca, Stefano De Ranieri. Vediamo che cosa ci ha risposto. La ricetta è semplicemente guardando, analizzando veramente con una mano sul cuore il che è successo nelle altre città e come ha detto Diamo Santini che ha un tavolo di concentrazione su questo argomento qui invitando oltre che le categorie commerciali anche i residenti perché senza dover chiaramente drammatizzare la cosa però anche i residenti dovrebbe un attimo parlare di come vive e di come subisce la città. Io le parlo di tetto massimo dei prezzi per la categoria, lei è d'accordo o no? No, ma non ha senso mettere, ci vuole buon senso perché la cosa più bella è il buon senso, cioè le regole così ostative, il tetto massimo hanno anche un poco senso perché poi dopo uno le reagira in qualche maniera. Ma come si fa a stabilire un tetto massimo di una stanza o di un piatto di tordelle? Ci vuole buon senso quando si fanno le tordelle e quando si affitta la stanza. Ricorderete ad un'intervista all'assessore al turismo Remo Santini, proprio l'assessore aveva annunciato sulla nostra emittente che in autunno saranno convocati gli stati generali del settore quindi tutti gli operatori a confronto per capire quale sarà il futuro del turismo a Lucca. Ma intanto voltiamo pagina perché procedono a pieno ritmo i lavori alla palestra Bacchettoni, andiamo a vedere che cosa è emerso da un sopralluogo dell'amministrazione e dei tecnici comunali. Sarà pronta per l'autunno del 2025 secondo le previsioni dell'amministrazione comunale la palestra Bacchettoni dove procedono a pieno ritmo i lavori di riqualificazione. È quanto emerso nel corso dell'ultimo sopralluogo dei progettisti, dei tecnici comunali con il sindaco Mario Pardini e gli assessori ai lavori pubblici Nicola Bucchignani e allo sport Fabio Barsanti con il consigliere delegato al PNRR Armando Pasquinelli. Nello stato attuale il cantiere vede il totale rifacimento della copertura del tetto. Sulle falde interne sono in via di montaggio i pannelli fonoassorbenti per migliorare l'acustica della palestra. È stata realizzata la nuova soletta in cemento armato della pavimentazione sulla quale sono state ancorate le strutture metalliche di rafforzamento strutturale di tutte le murature perimetrali interne dell'edificio, così pure nell'avancorpo su via dei Bacchettoni. Dopo la fine di questa fase verranno realizzati i due nuovi corpi interni all'estremità nord e sud dell'edificio che ospiteranno i servizi e gli spogliatoi e al piano superiore delle piccole palestre. L'accesso principale all'edificio tornerà ad essere quello dall'avancorpo centrale. Lungo quel lato troveranno posto anche due piccole tribune che potranno ospitare circa 180 persone. La situazione produttiva della KME di Fornaci di Barga è preoccupante quanto emerso in un incontro tra la direzione aziendale e i sindacati del gruppo. Il futuro della KME di Fornaci è al centro di un incontro tra la direzione aziendale e il coordinamento nazionale FIM-FIOM-WILM del gruppo. Obiettivo discutere sulla situazione produttiva e del premio di risultato alla luce delle preoccupazioni ancora forti dopo lo stop forzato per sequestro del Forno Flottante 1 a seguito dell'infortunio in cui a maggio ha perso la vita il barghigiano Nicola Corti. A tenere banco in particolare è stata proprio la complicata situazione che si è venuta a creare dopo il mortale. Il forno flottante, scrivono i coordinatori nazionali dei sindacati, è ancora fermo. È stata fatta la prima perizia tecnica e continueranno le verifiche da parte dei periti incaricati dagli organismi competenti. Una situazione che sta comportando diversificazioni produttive e parti di lavorazioni che stanno andando all'estero. È evidente che siamo di fronte ad una fase delicata in cui l'azienda rischia di perdere volumi produttivi, scrivono i sindacati, con tutte le ripercussioni negative che possono ricadere sui lavoratori. Il prossimo incontro tra la direzione KME e il coordinamento sindacale nazionale del gruppo è previsto a fine agosto, a seguito del quale verranno convocate le assemblee dei lavoratori. Torniamo a Lucca. Un elicottero parcheggiato di fianco alla chiesa nuova di San Vito. È quanto hanno potuto vedere gli abitanti del popoloso quartiere alla periferia nord-est della città, che sono rimasti di sasso di fronte a questa strana e a dir poco insolita presenza. Il velivolo praticamente parcheggiato nel parco tra la chiesa e la canonica è stato perfettamente coperto con l'apposito telo di stazionamento notturno che preserva l'abitacolo dalle infiltrazioni di acqua e umidità. Ancora ignoto il proprietario o quantomeno il pilota che ha deciso di atterrare in mezzo alle case, contravvenendo se non alle norme di sicurezza, almeno a quelle del buonsenso. E adesso torniamo in Valle del Serchio, dove c'era la folla in piazza Pascoli per Ballando Io e Te. Andiamo a conoscere subito la vincitrice. Il concorso si è tenuto a Piano di Coreglia. La seconda edizione barghigiana di Ballando Io e Te, lo spettacolo ideato sul format della trasmissione televisiva Ballando con le stelle, realizzato dalla Scuola di Ballo Melodi di Piano di Coreglia, è stata un successo. Un pubblico delle grandi occasioni ha gremito a piazza Pascoli ed ha gradito molto lo spettacolo, che è filato via liscio come l'olio. Nella gara, organizzata anche con la collaborazione del Comune di Barga, cittadini di Barga affiancati da altrettanti maestri di ballo. A valutare le varie performance, una speciale giuria barghigiana è il pubblico e dalla fine proprio il pubblico ha proclamato i vincitori per l'acclamazione. Ha vinto la pasticcera fornacina Beatrice Ferrara in coppia con il maestro Tommaso Rocco, che se la sono giocata al fotofinish con uno dei due outsider della gara, Eugenio Monticelli, con il maestro Greta Bonanti, trascinati anche dalla loro simpatia. Terzo posto per la forte coppia composta dalla presidente di Smascherando Fornaci, Cate Cosimini, con il maestro Michele Puccetti e quarto per Giordano De Servi, con il maestro Lisa Vichi, lui è il marito di Beatrice con la quale porta avanti la pasticceria De Servi di Fornaci. A margine della prova dei concorrenti da evidenziare la bella performance in pista del presidente del Cipaf di Fornaci, Giuseppe Santi, che se l'è cavata egregiamente insieme alla maestra Erika Turicchi in un perfetto tango e nel ruolo di ballerino per una notte, che ha segnato punti ai concorrenti. E noi chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale dedicata a Lucca, alla Valle del Serchio. Grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. Adesso, come sempre, linea allo Sporting Studio. Luigi Casentini, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.